Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ponte d'Era Est, Ponte d'Era Ovest e Ponsacco in direzione Livorno. Per lavori di miglioramento della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagi tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Spostandoci in A1 in direzione Bologna a corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località al Biano Magra nel comune di Aulla in provincia di Massa Carrara a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Il traffico è deviato con indicazioni segnalate in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!